Musica Venerdì 24 giugno, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, ben ritrovati in diretta con l'appuntamento per la rassegna stampa nazionale e locale, primi aggiornamenti di cronaca e di sport. Partiamo proprio con gli aggiornamenti di cronaca perché ci sono stati diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine ma anche di Gorizia nel corso della notte, ma già da prima, dalla tarda serata di ieri, per la serie di nubi fragi che hanno interessato il nostro territorio, nubi fragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni di ri e roge e anche la caduta di alberi e queste sono alcune delle immagini che arrivano dalla zona più colpita, quella di Udine dell'Interland, di Udine che comprende e ha interessato i comuni di Pozzuolo del Friuli, Manzano, San Giovanni al Natisone e ancora Pavia di Udine, Cividale, San Giovanni al Natisone. Questo è un primo quadro degli interventi che hanno portato a termine i pompieri del Comando Provinciale assieme ai colleghi di vari distaccamenti, c'è stato anche un incidente nella zona di Varmo con un'auto che è finita a ruote all'aria in un campo allagato e vedete proprio in questo caso l'intervento che c'è stato nel tarro pomeriggio di ieri da parte dei pompieri, una perturbazione che era stata annunciata attraverso un'allerta meteo da parte della protezione civile che fortunatamente ha provocato danni contenuti. Questo è dunque il primo quadro della situazione e poi nelle prossime edizioni andremo ad approfondire la gestione degli interventi oltre una cinquantina che si stanno via via scaricando in queste ore. Ora invece concentriamoci sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo con le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera in apertura oggi titola Ucraina e il Sì dell'Europa perché ieri in serata è arrivato il Via Libera, la candidatura per Kiev e per la Moldavia per l'ingresso nell'Unione. Zelensky inizia il futuro e Biden annuncia nuovi aiuti militari, trattativa sul tetto al gas, nel frattempo Draghi spinge e chiede un vertice straordinario a luglio. Per quanto riguarda poi invece la politica italiana, dopo la rottura all'interno del Movimento 5 Stelle, Di Maio lancia i gruppi parlamentari, Sala, il sindaco di Milano, dice che è cresciuto. Ci sono i retroscena rispetto al ministro degli esteri, i giochi che si stanno muovendo al centro della politica nazionale. A centropagina invece il nuoto con il tuffo che ha salvato la vita ad Anita, svenuta sul fondo della piscina ai mondiali, nel nuoto sincronizzato, parla l'allenatrice dell'atleta americana, protagonista di questo salvataggio. E poi ancora il Covid che ritorna, aumentano i contagi, il tasso è salito al 22%, lista dei sondaggi ma ci sono due itali e le foto del paese, le statistiche che molte volte non tornano. Dalla Corriere ci spostiamo su Repubblica, Unione Europea, un recovery per il gas, Roma e Parigi propongono un piano di aiuti per contrastare l'aumento dell'energia, un vertice speciale a luglio. Il Premier Draghi insiste, serve un tetto ai prezzi, l'Unione vara, nuove forniture di armi a Kiev, i russi sblocchino il grano e i 27 dicono sì a Ucraina e a Moldavia, Zelensky, Italia al nostro fianco. A centro pagina il sondaggio sullo Ius scolare, cittadinanza, chi studia qui, ok, dagli elettori di Lega e Fratelli d'Italia. E poi ancora, sempre per quanto riguarda Repubblica, gli scenari, le repubbliche dell'altra Russia che sfidano lo Zara, il reportage nel porto di Baltisk e la flotta di Putin che aspetta la Nato. Andiamo avanti con la stampa di Torino. Unione Europea, porta aperta all'Ucraina, Cingolani, Italia, il gas c'è, sia a Kiev, rivolta dei Balcani, Draghi, passi in avanti per il tetto al prezzo dell'energia. Palla al Ministro per la transizione e per ora a riserva al sicuro del 2030 servirà il nucleare pulito. A centro pagina l'apocalisse dei bambini afghani, sale il bilancio delle vittime del terremoto, oltre mille morti, la maggioranza sono bambini. Andiamo al sole 24 ore. A maggio vola la cassa integrazione macchinari industrie a corto di pezzi. E poi ancora il vertice a luglio sul prezzo del gas Brics dalla Banca per lo sviluppo e in arrivo fondi anche per Mosca. Continuiamo con le altre prime pagine dei quotidiani. Il fatto quotidiano titola in apertura, volta a Gabbana da record e non pagano i debiti. 600 mila euro non versati, i di Maiani lasciano il buco al Movimento 5 Stelle, i trasformisti con loro salgono a quota 280 dall'inizio della legislatura nel Parlamento italiano. Di taglio alto sale sul gas Draghi, resta solo i dati lo smentiscono, il Papa basta armi, Berlino fiera dei caccia. E poi ancora il primo inedito, Gramsci all'Europa, all'americanarsi il tema sull'arte del 1911. Continuiamo con la prima pagina del giornale. Un pezzo di Russia in Europa, via libera a Kiev nell'Unione, star i consigli di Bruxelles alla candidatura di Ucraina e Moldavia, che Putin considera cosa sua. Scoppia la protesta dei balcanici, vertice per il tetto al prezzo del gas, Biden riarma Zelensky. Reddito 29 mila truffatori, c'è chi offre un euro all'ora ai due volti dell'occupazione. Primi rubinetti chiusi, scatta il piano siccità, rete collaborore, 40% di acqua sprecata. E proprio sul tema della siccità le regioni si stanno coordinando per una serie di provvedimenti che dovrebbero essere varati a breve. Proprio ieri è arrivata per quanto riguarda per esempio il Friuli Venezia Giulia e lo andremo a spiegare nei dettagli tra poco. La prima ordinanza del governatore Fedriga, i primi provvedimenti da parte dei comuni come a Porrenone dove si è deciso di chiudere i rubinetti pubblici dell'acqua. Con questo servizio dell'ANSA andiamo a fare il quadro della situazione. Regioni a lavoro sulla individuazione dei criteri per arrivare alla dichiarazione di stato di emergenza siccità. Successivamente la protezione civile predisporrà un DPCM. Parte un coordinamento fra i ministeri interessati e alla stessa protezione civile. Le politiche agricole fanno sapere che si potrà proclamare lo stato di avversità con danni sopra il 30% della produzione lorda vendibile. Le temperature si fanno sempre più bollenti e gli studi ultimi rivelano che il Mediterraneo è sempre più caldo. La temperatura sale di 4 gradi rispetto alla media del periodo 1985-2005 con picchi superiori a 23 gradi. Vedo il discorso ho chiesto al governo lo stato di emergenza. Ieri l'ho reclamato. Il capo della protezione civile ci ha detto che i numeri del Piemonte e della Lombardia sono già da stato di emergenza. Ma che dal momento che è una scelta corale si attendono i parametri delle altre regioni. Io però dico si parte almeno in modo parziale da chi come noi. Già sette giorni fa ha anticipato i tempi. Così a margine di un appuntamento a Torino il governatore del Piemonte Alberto Cirio sulla grave crisi idrica del territorio. Continuiamo con la verità. Il titolo in apertura del quotidiano. Da 5 anni paghiamo la cassa integrazione al Partito Democratico. Costo totale almeno 10 milioni. Letta da premier ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti che oggi sono spesso in crisi. Infatti il suo ha 122 dipendenti in cassa integrazione iniziate nel 2017. In autunno scadrà una grana in più per la campagna elettorale. Parte la guerra delle pensioni. Il pressing per indicizzare l'inflazione. Per Bonomi l'Istat ha gonfiato il PIL per fare un favore al governo. Questa è la dichiarazione del leader di Confindustria. E poi ancora il gas berlino in allarme. Noi traccheggiamo la Germania che secondo i dati risentirebbe meno di noi della crisi energetica. Entra in modalità bellica sugli approvvigionamenti. Non passa la proposta di Draghi sul tetto del prezzo. È possibile un nuovo vertice a luglio. Andiamo avanti con il foglio. L'abbraccio europeo a Zelensky è un gran colpo a Putin. Ora armi e soldi. E poi ancora un manifesto di interessi è meglio. La pistola di Chekhov e anche di taglio alto. Altro che si cita la vera crisi dell'acqua in Italia. Radici ideologiche. Nasce dalla demagogia del bene comune. Gli appunti per il WWF. WWF. Libero. Centro anch'io. No, tu no. Il fantamercato della politica. La squadra dei sogni democristiani. Da Di Maio a Tabaci. L'area Pro Draghi a più giocatori della nazionale. E poi ancora scelta dell'Unione Europea. Cainasi Albania no. Sul gas la tattica di Putin fa acqua. Ma l'Europa non ne approfitta. Primo che è la candidatura di Chieb. Ma per i paesi balcanici saltano gli accordi. Il manifesto. Stiamo freschi. La pianura padanea al collasso. Ma la dichiarazione dello stato di emergenza tarda da arrivare. Regioni impressi sul governo che però declassa la crisi climatica ad avversità atmosferica. Il Piemonte alza la voce. Ma la Lombardia frena. Allarme dell'Enea sul riscaldamento record del Mediterraneo. La sinistra ai Verdi contro l'inazione del ministro Cingolani. Di taglio alto alla canna del gas. All'allarme in Germania. Via libera del Consiglio dell'Unione alla candidatura di Ucraina e Moldavia. Ma la strada sarà lunga. Andiamo ai temi legati a casa nostra con il gazzettino. Un tetto al prezzo del gas. Anche Francia e Spagna. Dopo l'Italia chiedono di fissare un limite al costo del metano all'ingrosso. Primissi dall'Olanda. Intanto la Germania attiva lo stato di allarme energetico. E l'inverno inizia già a preoccupare. A centro pagina. La guarda delle licenze a Venezia. Sulle gondole e gli affari di famiglia. Veleni accuse di nepotismo. Brugnaro. Il sindaco di Venezia è il leader di Coraggio Italia. Cosa penso di Renzi. Sala di Maio e Calenda. Il sindaco Coraggio Italia sciolta. Le politiche ci sarà. Grande centro. Noi non con chi si allea al PD così Brugnaro. E poi l'allarme per il Covid anche in Veneto. In una settimana un balzo dell'81%. Ma la regione italiana che ha visto l'aumento più alto è proprio il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale. Allora con il punto sul Covid andiamo a fare chiarezza rispetto al trend delle ultime settimane. Sulla fronte dei contagi nella nostra regione anche alla luce dello studio. che ha presentato ieri la Fondazione Gimbe in particolar modo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Con il trend settimanale, la provincia di Udine che vede l'aumento maggiore rispetto appunto alle nuove positività. Dopo l'aumento del 50% della scorsa settimana in Friuli Venezia Giulia continua la corsa dei contagi da Covid. E in base alla fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe, tra il 15 e il 21 giugno i nuovi casi segnano un più 91,5%. La percentuale più alta a livello italiano. I positivi ogni 100 mila abitanti sono 672. Sul territorio Udine sale in vetta la classifica sia regionale che nazionale con 526 casi ogni 100 mila abitanti. Un più 104,3% segue Pordenone. L'incremento più significativo a Gorizia con un più 114%. In merito ai ricoveri i dati restano bassi seppur in salita. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 4% contro una media nazionale del 2,2%. Mentre i pazienti nei reparti ordinari sono il 7,8%, poco più della media nazionale. Stiamo assistendo ad una netta impennata dei nuovi casi settimanali, ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Casi che si attestano attorno a 255 mila con una media mobile a 7 giorni che supera quota 36 mila casi al giorno. Gli ampi margini di incertezza sono determinati da un campionamento statistico insufficiente che assieme alla cadenza mensile della flash survey indicano che le attività di sequenziamento nel nostro paese non sono state adeguatamente potenziate per rispondere tempestivamente alla diffusione delle nuove varianti. Nella giornata di oggi, nel frattempo, in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 6.055 test e tamponi effettuati si sono stati riscontrati 1.361 casi di positività. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati negli altri reparti sono 129. A renderlo noto la Direzione Centrale Salute della Regione nel bollettino quotidiano dal quale emerge anche un ulteriore caso di decesso di una persona avvenuto a Pordenone. Torniamo sui quotidiani, sull'edizione del Friuli Venezia Giulia del Gazzettino. in apertura, Covid, gli ospedali di nuovo pieni a Pordenone. In pochi giorni già 15 ricoverati su 20 posti, a Udine più 15 al Dipartimento di Emergenza. Friuli è più il centro della nuova ondata con un aumento del 91%, l'abbiamo sentito. Nessuna regione ha numeri peggiori. A centro pagina invece la cronaca, torniamo sul femminicidio di Codroipo. Più di 50 le coltellate per uccidere Betta, questo l'esito dell'autopsia sul corpo della mamma uccisa dal compagno. E poi ancora Giada, morta a 21 anni, 13 giorni dopo lo schianto in auto, troppo gravi le ferite, l'incidente contro la recinzione di un'abitazione a Terenzano. Era successo tra le 10 e l'11 giugno scorsi. Ancora dalle notizie del territorio, taglio del gas dalla Russia, c'è la grande paura nelle fabbriche del Friuli e ancora la Croazia e la Slovenia che trivellano l'Adriatico. Andiamo all'interno delle pagine del Gazzettino per approfondire alcune di queste notizie. Dicevamo l'autopsia sul corpo di Elisabetta che ha evidenziato un'azione rapida con il marito che l'ha colpita soprattutto al collo. Le ferite mortali aprirebbero dubbi sulla ricostruzione fornita da Castellani rispetto alla tragedia che si è verificata nel medio Friuli. E poi troppo gravi le ferite riportate già da Mora 21 anni, 13 giorni dopo lo schianto. La ragazza era originaria di Pavia di Udine. Ci avviamo verso le sfide del ballottaggio per le amministrative. Tre i comuni coinvolti, lo ricordiamo, in Friuli Venezia Giulia, oltre a Gorizia anche Codroipo e Azzano Decimo. A Codroipo c'è l'ultimo appello per vincere il Comune. La sfida all'ultimo voto, Nardini del centrosinistra, sono stati anni difficili. Faremo rinascere la città. Mauro, centrodestra, più sicurezza e ordine per valorizzare il territorio. I due sfidanti saranno nostri ospiti nell'edizione delle ore 12 di Udinese TV. Ancora con le altre notizie dal territorio. La Guardia di Finanza caccia di bonus e sussidi. Ancora in troppi tentano le truffe. Più di 3.000 alle ispezioni e 300 alle indagini delle fiamme gialle in Friuli, che hanno individuato 85 milioni di euro sottratti allo Stato. Questo è il bilancio presentato ieri in occasione della festa del Corpo. La questione mense a Udine. Impossibile rispettare il capitolato d'appalto. La Sodexo chiude il contratto per le mense scolastiche nel capoluogo friulano. E poi c'è anche la questione delle borse di studio. Da 5.000 euro, ma nessuno partecipa. Sono quelle promosse dall'Università di Udine. Dalle pagine del Gazzettino andiamo a dare un'occhiata al Messaggero Veneto. L'edizione di Udine. In apertura crescono contagi e ricoveri per Covid. I dati più alti di tali. In 20 giorni quadruplicati positivi sui 100.000 abitanti. Monitorati gli ospedali rischiano di tornare sotto pressione. La siccità, l'attività ridotta per le centraline in regione decreto contro lo spreco. Quello varato dal governatore Fedriga. E poi ancora le notizie di cronaca. L'omicidio di Codroipo, l'Isabetta Molaro uccisa con 57 coltellate. Giada che muore a 21 anni 10 giorni dopo l'incidente. Per quanto riguarda invece la pagina degli spettacoli. Grande festa ieri davvero a Lignano Sabbiadoro per il concerto dei Manneskin. Oltre 27.000 le persone che hanno partecipato allo stadio Teghila. A questo grandissimo evento promosso in Friuli Venezia Giulia. Con gente che è arrivata davvero da tutte le parti del mondo. Per noi c'era il Poma, l'apertura dei Cancelland. Ora andiamo ad ascoltare un paio di voci dei fan del gruppo. Dalla Serbia per seguire i Manneskin. Insomma, tanta roba. Si fa questo e l'altro per i figli? Sì, tutto per i figli. Tutto per i figli. Dopo una lunga attesa siamo qua allo stadio Teghila. Lei come si chiama? Di dov'è? Romina, abito a San Michele al Tagliamento. Complimenti, si gioca in casa allora? Certamente. E' venuta a piedi o in bicicletta? In macchina. Beh, tanto grandi parcheggi ce ne sono qua. Per adesso siamo al top. Certo. Con chi è venuta allo stadio? Con mia figlia e amiche. Ben fatta. E quindi siamo qui per Damiano o per tutto il gruppo? Tutto il gruppo. Di dov'è lei? Da vicino Lignano. Quindi giochi in casa? Giochiamo in casa, giochiamo in casa. Buongiorno a tutti. Da che ora è qui allo stadio? Siamo arrivati in questo momento. Finito di lavorare e corsi. Quindi siamo qua per Damiano o per tutto il gruppo? Per tutto il gruppo ragazzi. Non si guarda mai solo il frontman. Come mai si seguono i Moneskin o Moneskin? Si seguono i Moneskin perché sono un'icona genderless, genderqueer e assolutamente fanno del rock che spacca. Quindi mi raccomando, seguiteli tutti quanti. Con quale canzone partiranno stasera? Non lo so con quale canzone partiranno, però speriamo partano col botto perché è quello che speriamo e quello che vogliamo. E allora, qua si aspetta di entrare o avete portato qualcuno allo stadio? Abbiamo portato le nostre figlie adolescenti. Quindi le mamme che salutano le figlie, qua per i Moneskin. Esatto, sì. Quanto tempo non dormivano per questo concerto? Insomma, parecchio. Gli biglietti li abbiamo regalati a Natale e quindi sono sei mesi che aspettano. Il loro primo concerto? Della grande sì, della più piccola no. Ne ho già visto uno. Comunque freschissime di concerti. Cosa possiamo dire di questo gruppo, i Moneskin? Guardi, piacciono tanto anche a noi genitori. Tutto pronto stasera? Assolutamente sì. Insomma, sei riuscito anche ad ascoltare in anteprima i Moneskin durante le prove? Certo, ho visto giocare a calcio a due metri da me. E bravo, Damiano anche a giocare a calcio allora? Certamente, tutti e due i piedi. Cosa ti aspetti da questo concerto? Beh, sicuramente divertimento. Sono molto trascendentali, cercano di coinvolgere la gente, cercano anche di far divertire la gente, che questo è molto importante. E su questo grande concerto, appuntamento stasera con il programma del nostro Poma Music Social Machine, dove rivedremo e riascolteremo alcuni ispezioni della serata in questo grandissimo evento del Friuli Venezia Giulia. Tornando ai quotidiani, invece, il messaggero nell'edizione di Udine torna sulla questione Mense, con Sodesco che ha chiesto la risoluzione, salta l'appalto. L'assessore del Comune ha accettato, erano in difficoltà nel rispettare il capitolato e l'offerta tecnica. Dalla messaggero di Udine andiamo a dare un'occhiata all'edizione di Pordenone. Limitato l'uso dell'acqua potabile, si rischiano molte fino a 500 euro, sia all'igiene personale, no a lavare auto, riempire piscine, irrigazione, se indispensabile, dalle ore 22 alle 7. Questa è l'ordinanza del sindaco Ciriani. In serata il maltempo, con cantine e strade allagate, dopo i temporali, ne abbiamo visto in apertura qual è il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco. Poi, per quanto riguarda Pordenone, caso peculato al consorzio, pena eccessiva per Pippo, sarà rideterminata in appello. Da Pordenone a Trieste e Gorizia, l'edizione del piccolo dedicata al capoluogo regionale, la cabinovia Porto-Carso, svelato il progetto di Fuxas, una struttura esagonale, esagoni per l'ingresso dell'impianto in Porto Vecchio, ideato dalla coppia di Archistar. E questo è un primo rendering, la riscossa del turismo è già partita con Trieste, l'alfabeto del futuro. La cronaca, la galleria Foraggi chiusa fino al 25 luglio, Chiesta la proroga e poi Ancos, e ancora il triestino, arrestato per l'uccisione del trafficante sloveno. Consumi di alcolici, solo vino ai locali, la regione dopo le regole, dopo le ore 22. Da Trieste ci trasferiamo a Gorizia, sempre con le pagine del piccolo. C'è il ballottaggio del capoluogo isontino, a tenere banco, vince Ziberno Fasiolo, un consiglio comunale completamente diverso. Il sindaco eletto il premio di maggioranza con 24 consiglieri della sua coalizione, ne rimangono 16 per tutta l'opposizione. Martino è interessato, Zotti e Deve Tagno. Queste sono le simulazioni sulle liste e sulle varie composizioni, nel caso vinca Ziberno e nel caso vinca la Fasiolo. Ancora polemiche, il posto era 4 mesi avanti Gorizia, prima la città basta polemiche, il candidato del centro-destra chiama a raccolta tutto il suo elettorato con lo slogan ogni voto conto e chiede di non sottovalutare la sfida. La sfidante, Laura Fasiolo, con il manifesto che segna l'ora di Laura, con Sant'Ignazio, il castello e il ponte, la candidata del centro-sinistra, sceglie i simboli del capoluogo isontino con lo slogan sindaca di Gorizia che marca la discontinuità di genere. Dalla piccola ora ci dedichiamo allo sport con le pagine dei quotidiani sportivi, andiamo a vedere gli argomenti in primo piano su tutto sport, l'apertura Zaniolo-Juve. Eccoci qua, con l'incontro con la Roma per l'Azzurro, Arthur resta una possibile contropartita, bianco-neri davanti, Milan alla finestra, Cherubini vede anche la pimenta per Pogba, manca solo l'annuncio. Di taglio alto, Mandragora quasi viola, il Toro si allontana dal centrocampista dopo il vertice con la gente, la Fiorentina che ha l'accordo con la Juve è pronta a chiudere. Bagnati accelera per Maggiore, intesa col Marsiglia per Luis Enrique. E poi c'è Coulibaly, se De Ligt va al Chelsea. Samp, cosa ci fa Ferrero al mercato? Imbarazzo blucerchiato e non solo, non può più ricoprire incarichi nel club, ma a Milano frequenta i ritrovi dei dirigenti e dei procuratori, Corrado Tedeschi che faccia tosta. In Serie A senza respiro, i segreti per resistere, sarà un campionato mai visto, con l'inchiesta dei Biasi, Ventrone e il motivatore Tirelli che spiegano come affrontare una stagione spezzata dal Mondiale. Stagione che oggi, lo ricordiamo, vivrà la presentazione del calendario ufficiale per l'annata 2022-2023. E anche in questo caso noi saremo live nell'edizione delle 12 con Stefano Giovampietro. Vi racconteremo, un minuto dopo un minuto, quali saranno le prime sfide dell'Udinese nella prossima stagione sportiva. E poi stasera dedicheremo anche uno speciale proprio ai calendari. Continuando sulle pagine del Tutto Sport, c'è anche il tennis, Berrettina, Wibledon che ha già battuto Nadal. Storico allenamento sul centrale, un set 6-4 per Matteo. Andiamo sul Corriere dello Sport. De Ligt che vuole la Premier, solo la clausola da 115 milioni può bloccarlo. Chelsea United pronte a strapparlo alla Juventus. Bremer, l'Inter stringe, è imminente l'incontro con il Toro. Napoli, Calidù è unico, Cannavaro sponsor di Dybala, è un affare. E poi, il bigliardino libero è gratis, lo strano caso del calcio balilla d'azzardo. Andiamo ora sulle pagine della Gazzetta dello Sport con le altre notizie sportive. In apertura, Allegri è tornato Pogba. Accordo totale per il polpo bis, quattro anni di contratto, ritrova la Juventus dopo sei stagioni, così il motore bianconero riacquisterà energia. Nel labirinto Dybala, l'offerta dell'Inter legata alle presenze, poi Maldini che firma lo sprint, mancano gli ultimi dettagli, poi via colpi del Milan. Tra Zaniolo e la Roma è grande freddo, ma i giallorossi vogliono 60 milioni, un rinnovo complicato. E poi il Monza che aspetta il CD Sensi, l'Atalanta che riparte con Ederson. Anche la Gazzetta ritorna sul salvataggio di Anita che stava annegando, così l'ho salvata l'allenatrice del sincronizzato eroina dei mondiali. All'interno delle pagine della Gazzetta andiamo a vedere alcune delle novità per quanto riguarda le trattative di mercato in Piazza Affari. Si parla per esempio del Monza, bloccato Sensi, manca solo il suo sì, Berlusconina da protagonisti. E poi ancora Pablo Marì che potrebbe andare al Verona, Ciofi pensa al suo ex spagnolo, all'Udinese di proprietà dell'Arsenal per rinforzare la difesa giallo-blu. E poi per quanto riguarda invece Lempoli, interessato uno dei porteri friulani, protagonisti delle ultime stagioni, è stato acquistato Perisan dal Pordenone e Marin è a un passo. Andiamo avanti con le altre notizie. Per quanto riguarda le squadre di Serie A c'è questa ipotesi di Gessandall'Udinese, di fatto chiusa la trattativa, scrive la Gazzetta, per il difensore centrale che arriva a parametro zero. Questa è la notizia che dà la Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo ora sul Gazzettino con gli approfondimenti legati proprio ai bianconeri. Marino è pronto a sfidare le grandi. Questo è il titolo. Oggi il vario del calendario della Serie A. Meglio affrontare subito Inter e Juve, l'incognita dello stop al campionato per 50 giorni a causa dei mondiali, così scrive Guido Gomirato. Gotti e Cioffi guardano in casa a Pozzo, gli ex invadenti, rispetto alle trattative di mercato con gli allenatori che vorrebbero diversi elementi della rosa bianconera. Sul fronte ritiro, con i fine prestito, i primi giovani acquisti. Intanto è già udine con la famiglia il giovane difensore Franco Ivoriano, ex Nancy Alex Gessand, che farà parte del gruppo bianconero, come abbiamo visto anche dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda invece le altre notizie dedicate allo sport locale, il Pordenone, Perizan, se ne va in Serie A a Empoli. Il giocatore sanvitese, cresciuto nell'Udinese per due stagioni, ha difeso la porta dei Neroverdi. Si contenderà la maglia titolare con l'altro friulano Vicario. Nel frattempo, Ciciretti è rientrato per fine prestito, ma non vuole rimanere. Sul fronte, calcio dilettanti, le novità che arrivano dalle squadre del Friuli. Carpina alenerà il basso, Friuli la formazione di Latisana e dintorni. Poi la sacilese che si affida invece a mister Muzzina, Prata, il calcio adulto in estinzione. Abbiamo anche il basket con Cividale, la 2, un sogno realizzato in due anni, il bilancio dopo la vittoria della scorsa serata. Amicalici, il gruppo sarà confermato, farà grandi cose nella nuova serie. Il presidente della FIB, Adami, ex capitano a Cividale. Ora, consolidatevi, questo l'invito. Per quanto riguarda invece tutte le altre notizie di Sport e di Cronaca, vi rimandiamo all'edizione delle ore 10 del nostro notiziario che appunto quest'oggi sarà dedicato anche alla presentazione dei calendari della Serie A con il nostro Stefano Giovan Pietro. Andremo a seguire live la presentazione. Vi daremo in tempo reale tutte le prime sfide della formazione bianconera e poi a seguire il TG alle 16 alle 19, alle 19.30 all'edizione sportiva, alle 19.45 il TG dedicato a Pordenone. In prima serata dicevamo l'ore 21 Music Social Machine con il Poma che si occuperà della mania dei Manneskin dopo il concerto di ieri sera a Lignano e poi alle 21.45 lo speciale dedicato al calendario di Serie A del campionato 2022-2023 alle ore 21.45. Grazie per averci seguito spazio alle previsioni del tempo a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Un saluto agli amici di Udinese TV da Manu e Mazzoleni di Trebimetro nella giornata di venerdì un impulso instabile lambisce il nord Italia porta un parziale peggioramento del tempo anche sulla nostra regione con rovesci e temporali che transiteranno soprattutto su Alpi e Prealpi ma qualcosa sconfinerà anche sulle pianure e sulle coste dell'alto versante Adriatico. Andiamo a vedere più nel dettaglio per quanto riguarda le province di Porto e Nono e Udine anche qui tempo in parziale peggioramento soprattutto nella seconda parte della giornata con rovesci e temporali che interesseranno dapprime i settori Alpini e Prealpini ma qualcosa sconfinerà anche sulle pianure temperature in leggera diminuzione punte tuttavia vicine 32-33 gradi ci spostiamo sul comparto orientale della regione anche qui tempo in parziale peggioramento con qualche rovescio temporale che transiterà nella seconda parte della giornata tuttavia i 30-32 gradi per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo